Ma tutto dipende, diciamo, dalle circostanze e dall'impegno, soprattutto. Certamente, fratello, anche se è una libera interpretazione della Bibbia, consigli ampi e vedute. Può essere, può essere, però non è detto che poi avrai c'è da essere. Pace bene, sorelle. Pace bene ovunque, indipendentemente dal clima. Sì, sì. Capite, le sorelle. Sai dove vanno queste sorelle? Dove vanno? Vanno da Dio. Tutte e tre vanno da Dio. Tutte e tre? Erano due. Perché non lo sai che la Ferrari va da Dio. È vivo.